Bisogna ricentrare il dibattito su del cioccolato per attirare bambini, questo mi sta ad aiutare. Bisogna assolutamente ricentrare il dibattito su un nero, una puttana, un'ordita, un'omosessuale. Bisogna assolutamente ricentrare il dibattito sulla menopausa, bisogna assolutamente ricentrare il dibattito su eiaculare dopo 47 secondi, Bisogna assolutamente ricentrare il dibattito sull'actac Bisogna assolutamente ricentrare il dibattito Su farsi un buco in tasca per masturbarsi in pubblico Bisogna assolutamente ricentrare il dibattito sul mio cazzo Nel caso non sappiate